buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione oggi rispondo ad una signora che ha sta utilizzando l'audio mp3 dcs no fumo che mi parla di numeri e di tempi io gli ho detto signora già il fatto è che lei mi sta mettendo in evidenza una mia parola un mio numero nelle parole ipnotiche che io ho creato ad arte io insieme alla mia associazione ipnologia sociale di los angeles vuol dire che lei non sta seguendo alla lettera le istruzioni perché non deve ascoltare deve soltanto seguire le istruzioni rilassarsi al resto penserà la sua mente profonda e il suo subcosciente a fare il miracolo della sua stessa mente e di solito la media sono i famosi 30 giorni la stragrande maggioranza ragazzi utilizzando gli audio mp3 dcs mette circa 30 giorni minimo una parte poi riesce dalla sera alla mattina o in una giornata due tre a togliersi il vizio del fumo un altro problema a sentire già subito i benefici e un'altra parte invece ci mette molto più tempo il punto è che siccome il metodo dcs l'ipnosi dcs vera e professionale non ti ruba tempo non ti impegna non ti fa seguire montagne ruscelli riviere luci e pastori qual è il tuo problema vuoi raggiungere l'obiettivo non ti costa nulla una volta che l'hai scaricato non ti ruba tempo non ruba tempo al tuo caro non ti fa mettere gli auricolari perché questa signora addirittura dice ma metto gli auricolari ma se nelle istruzioni c'è scritto non mettere gli auricolari perché li mette signora ok poi se ad uno non ce la può fare proprio perché sta con un'altra persona in camera magari sì anche se lì c'è il sistema prima che venga il suo partner la persona che abita che sta con lei nella sua camera magari anticipi no una mezz'oretta un'oretta prima però ci ho detto non bisogna concentrarsi sulle parole non bisogna entrare nel merito ragazzi perché non va bene e neanche nel giudicare qualità tecniche audio parole non si giudica non entrare in merito non devi ascoltare come ascolti una lezione a scuola come quando ascolti musica cioè tu devi lasciarti andare lasciarsi andare ok al resto pensano le mie parole l'audio mp3 la registrazione queste parole potentissime infatti la signora si sente rilassata ha sentito qualcosina anche se da tre quattro giorni utilizza l'audio mp3 ma in tre quattro giorni ci può capitare il miracolo ci può essere ma non è detto per cui bisogna insistere quando vedrà con i fatti che non avrà più voglia di fumare di prendere la famosa sigaretta considerate che il sottoscritto fumava tre pacchetti di sigarette io non fumo più da più di 12 anni ragazzi ok grazie posso dire ad un libro ok ma soprattutto che ha usato una scrittura ipnotica di fatto il libro si chiama è facile smettere di fumare se sai come farlo poi quando ho sposato questo metodo di los angeles della dottoressa rina brunini il metodo di cese ipnosi di cese vera e professionale ho fatto smettere primis l'ho provato io su di me ma poi ho fatto smettere centinaia centinaia di persone dal fumare con un solo audio mp3 e di solito ci sono gli audi anche le sessioni online o dal vivo di ipnosi di cese vera e professionale sottoscritto è un professionista dell'ipnosi online ipnosi vera e professionale che comunque al momento sono sospese perché non ho tempo e ho molti impegni all'estero soprattutto per cui signora continui non pensi ai numeri ok 1 2 3 4 5 6 16 19 20 25 non li consideri o prima o dopo stiamo parlando di un'altra dimensione non deve dire ma viene prima viene dopo un numero non si preoccupi ok tutto è stato fatto ad arte arte dicono in germania per cui questo è quanto non se anche tu hai uno dei miei mp3 audio lo stai utilizzando mi raccomando non devi entrare in merito a ciò che dico non devi giudicarmi non devi concentrarti devi seguire alla lettera quello che io ho scritto nelle istruzioni quello che l'associazione i prologi associati di los angeles baby reels ti manda le istruzioni sono facilissime ok quindi metti in pratica la lettera e tu vedrai la tua luce senza ma e senza se fammi tutte le domande del caso visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprologi associati.com c'è questo baffetto che oggi si abbassa iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli cambia la vita come è successo a me a tantissima gente nel mondo e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione del dottor claudio saracino e ricordati conclusione delle conclusioni non credere a nessuna parola del sottoscritto devi fare 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 giudicare sui fatti perché questa farà il miracolo della tua stessa mente le parole nei miei audi mp3 sono soltanto una guida interiore fidati che funziona per ogni cosa fumo depressione alcol ansia passato sensi di colpa dolori salute ricchezze vendite ok tutto esce da qui ragazzi da qui da ognuno di noi un bacio e un abbraccio dal dottore claudio saracino e alla prossima grazie a tutti